Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, è ieri sera intervenuto a Sport Italia, facendo chiarezza sulla posizione del suo assistito, divenuto ormai oggetto del desiderio di diversi club di Serie A. Fabiano Parisi, ha detto Giuffredi, nella trasmissione di Michele Criscitiello, andrà via da Empoli, ma è ancora presto per definire la destinazione. Da parte della Juve c'è solo del gradimento, niente di più, la Fiorentina non l'ho più sentita, mentre nella Lazio ha molti estimatori. Tre indizi, insomma, importanti in sede di mercato, che riscuotano chiaramente l'interesse dell'Avellino, che resta alla finestra per il suo 10% sulla futura rivendita. A tal proposito, non è mancata la stoccata di Giuffredi, che evidentemente, malgrado un successivo chiarimento, non ha ancora dimenticato e smaltito le scorie di quei giorni turbolenti legati al trasferimento di Parisi all'Empoli. L'Avellino, ha concluso, conserva tuttora una percentuale sulla rivendita su un giocatore di cui nemmeno sapeva che esistesse. In quel caso il procuratore fu importante per aver ceduto il calciatore, dando così la possibilità al club di tenersi in vita e giocarsi il campionato con il tesoretto della cessione. Verità assolutamente sacrosanta, sul 10% i protagonisti di quella vicenda, ma onestamente imprecisa rispetto alla proprietà che era già passata nelle mani della famiglia d'Agostino.